Non si arrestano neppure di fronte al rischio contagio gli spacciatori che bivaccano tra le piazzette Salvemini e Turati a Padova. Dopo le segnalazioni dei residenti, la questura impegnata su più fronti ha intensificato i controlli. Mercoledì sera sul posto gli agenti hanno notato tre persone, due alla vista della polizia sono fuggite. Un uomo, un nigeriano di 37 anni, è stato fermato. In suo soccorso è arrivata una donna di origine brasiliana che ha iniziato a infierire sugli agenti con calci e sputi. Ha avuta ragione di entrambi, l'uomo e la donna sono stati portati in questura e arrestati. L'uomo aveva con sé anche una decina di dosi di marijuana. Tre poliziotti hanno riportato ferite per loro. La prognosi è stata di cinque giorni.